Amici dell'esperto risponde, bentornati dal vostro Tonio Descalchi. Visto che siamo in periodo di dichiarazione dei redditi, torniamo a parlare di quello che potrebbe interessare voi contribuenti per detraibilità in modello 7 e 30. Andiamo a parlare nello specifico degli abbonamenti bus, degli abbonamenti al trasporto pubblico. L'abbonamento al trasporto pubblico è stato deciso di farlo tornare un onire detraibile da inserire nel modello 7 e 30 2019. Il beneficio alla detrazione del 19%, sempre come tutte le altre spese detraibili, sostenute per l'acquisto di abbonamenti a servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. I beneficiari di questo tipo di traibilità sono studenti, lavoratori, pensionati ai quali spetta sia per loro sia per eventuali familiari di cui si fa carico la spesa i contributi stessi dell'importo del abbonamento bus, treno, insomma del trasporto pubblico per un importo complessivo di 250 euro. Attenzione, i 250 euro devono essere questi, non sono cumulabili, ovvero se con anche eventuali familiari a carico si superasse la quota dei 250 euro, comunque non si potrebbe andare a detraarsi più di questa cifra. Esempio proprio classico, se la spesa è di 400 euro, l'importo massimo detraibile è comunque quello di 250 euro. Importante fare una distinzione fra quello che è l'abbonamento e quello che è l'acquisto di un tagliando semplice per una corsa a ore piuttosto che con un limitato tempo di percorrenza. Per abbonamento, e io qua leggo tessualmente, si intende titolo di trasporto che consente al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi per più giorni su un determinato percorso in una rete in un periodo di tempo specificato. Di conseguenza questo è tacciabile come abbonamento. Per quanto riguarda invece tutte le altre spese di titoli di viaggio che possono avere durato oraria anche se superiore a quella giornaliera non possiamo detrarre la spesa. Quindi è importante fare la distinzione fra quello che è abbonamento e quello che è l'acquisto di un biglietto semplice, nudo e crudo che quindi non può essere poi portato in detraibilità. Le cosiddette carte di trasporto integrate non possono essere anche se incluse in questo ondile detraibile. Attenzione, qua arriviamo all'ultimo passaggio, ma un passaggio fondamentale che segue tutte le spese detraibili. Il criterio che andiamo a menzionare, che andiamo a toccare per la detraibilità è quello di cassa. Quindi se andiamo a presentare il modello 730 2019 in questi giorni, noi possiamo andarci a detrare tutte quelle spese che sono state sostenute dal primo di gennaio del 2018 al 31 dicembre del 2018. Nell'ipotesi in cui, e parliamo magari dell'abbonamento, l'abbonamento stesso avesse una durata che andasse anche dopo il 2018, quindi faccio un esempio, primo novembre del 2018, 31 marzo del 2019. Se abbiamo acquistato nel 2018 questo abbonamento, anche se esso scade nel 2019, possiamo comunque portarlo in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Abbiamo concluso per questo argomento, vi aspetto per la prossima puntata dell'Espetto Responde, ricordiamo la mail redazione chiocciolabusiness24tv.it, un saluto da Tonio De Scalchi, buonasera. Grazie a tutti. Grazie a tutti.